salve a tutti ragazzi oggi allenamento gambe però oggi non ho molto tempo per allenarmi quindi ragazzi vi farò vedere un allenamento per gambe super fast davvero potete farlo velocemente e i risultati saranno super garantiti perché andremo a fare tutto a circuito ragazzi senza fermarci per tre serie cominciamo con uno squat 30 kg per max di ripetizione subito dopo faremo la leg station leg station ragazzi con 20 kg sempre tre serie per max ovviamente faremo subito una serie della volta e lo ripeteremo per tre volte poi ragazzi faremo leg guard subito dopo polparci tutto questo in super serie direi immediatamente di cominciare un'altra volta e lo ripeteremo 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 prima serie completata vi mostro assicurare che la fatica fatto tutto in super serie si sente anche se 30 kg di squat praticamente ci ho giocato però ragazzi fatto in super serie con legge station brucia tantissimo e1 e1 2 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anche la seconda serie è andata. Non vi dico che fatica ragazzi, è distruttiva come cosa. Incredibile. Ha una riuscita pari al 75% per fatica rispetto al mio allenamento originale. Raga, provatelo. Grazie a tutti. 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 Ragazzi, finalmente ho finito. Un dolore unico, non potete capire. Io vi lascio a check fisico delle gambe. Grazie a tutti. Grazie a tutti.